se volete acquistare crediti fifa a basso prezzo andate su fifaultimatingcoins.com e con il codice GRAN avrete il 5% di sconto bella vecchi draffani per 24 anni qui sono finita del granattina Lui si canta ai capelli e noi guardiamo No 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 Ahahahahahahahah Che vira del merda uomo Ma che cazzo è Ma quanto vale 50 milioni sta squadra Cazzo che voglia Cioè gli manca Ronaldo eh Gli manca solo Ronaldo Cioè c'è pure di Marif Non ce posso credere Vabbè vabbè regà questa se vince Dai vedi che siamo più forti Eh oh vabbè no un po' con il posto coppagli pubblica su un nuovo che sarà un po' di non so messi lecce che se non ha fatto il bar c'è il vero l'anno vuoi un gioco pensi come se ne va a pensare no se non è il vero appunto bates fa' un cazzo così c'è diciamo vabbè c'è di maria lui c'è la toti fatte dico ma vaffanco è parlaccio azzard si carica la squadra mi sembra di poter vedere che ne so pensavi aver perso il pallone ma non è così dai uomo la parola mi tira a mezzo che c'è Sturridge bello stato, otti il Sturridge che brutto cross tangents, tangents vai walker, walker per vie centrali si la madonna non c'è il tempo di stoppare la palla si incastra però fallo dai ma perché se così si non è buono vedi che ne è buono dai guarda che sto entrando oddio quanto urla però che cazzo perché navi a stare lì piano di patta anche che lascia scorrere il pallone ma cosi rango eh ti hai messo sotto non cacchetti ma perché la c'è pure il pallone sa tutti quanti eh boh vabbè hanno messo vangalmo perchè abbiamo deciso di mettere l'allenatore ovviamente non oh ramos si è sbagliato 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 quindi anche se arriveremo davanti alla volta oh dai mandami 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 eh no adesso c'è guarda chi c'hai appresti ramos devi andare un po' più avanti stai da solo la fa stai da solo stai da solo si è sbagliato si è sbagliato si è sbagliato se la passa da tutti l'esperienza tra la sugo e il fochi dai questa si è sbagliato ecco che ripiamo subito il gol no 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 mamma mia raga non capisco perché quando c'erano questo spese si fomentato quando c'erano comunque la sud corea sono schifo si infatti abbiamo fatto schifo proprio la sud corea eh quello no no dai bravo bravo mamma mia no ma compagnia rischia rosicata lì te giuro stava rosicata oddio si sopra no tazzo ma calma ma l'ha ciccata ma non ci voglio credere ma com'ha fatto vabbè 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 ha rotto il cazzo no 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 ha rotto il cazzo ma dai ma che cazzo ma guarda che cazzo piasticolle me fanno proprio rosicata te giuro eh si oh porca madonna è dato pure il fallo a lui si i 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 5 2 4 la c bella palla dai perchè ero allentato? perchè ero allentato? o danci tua si guarda che ti da io passaggio 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 a stare vabbè fallo no perchè? ma che cazzo ci prega che si sta incontro che buono che cazzo che è di maria sempre no vedi qua lì l'ho abbattata perchè ha abbattato tutta la porta vedi te nanti ignoro un dollar per lui no 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 mamma mia o lo si cavo quanto lo si cavo ma dai sbagliato passa ma che cazzo c'è o cesar c'è una secca direzione ma che... vabbè no vabbè col tuo azzardo oggi eh e che cazzo eh vabbè che sei messi però c'è il fisico del sollevatore dei capelli non era che lui era passato stavolta ma porca puttana chi mette? un Ronaldo Totti e ce n'è mare tra Ronaldo fa blu oh 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 ha fatto la cappella da Neuer ma è successo? ecco il contropiede c'è una paura fottuta mamma mia Fernandinho mamma mia Fernandinho mamma mia Fernandinho Fernandinho ma zotto vabbè 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 cazzo ci so che hai più cazzo vabbè 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 vabbò no ha pregiuto no che stai a dire mannaggia avevo un altro po' di sofferenza no 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 sì 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 iC? 来 una volta che ci dice bene va ti importa per cui sono parito subito la perché non sta in mezzo addio paura paura sì sì si ti intestino più si se diventa più se diventa da singhenina perver me la come si chiama dare come si chiama dezce so tipo daj attenzione che tizio reka quel palo lì è stato qualcosa di tipo rosa speriamo che ce la conta dovremmo stare 7 punti vediamo allora noi lo vediamo con voi in diretta allora 7 punti mancano 4 partite ancora possiamo anche andare in terza però non lo diciamo dai eh dai eh alla prossima gran vittoria ciao